Siamo sulla spiaggia di Byron Gay, Lorenzo e il relax, e come potete vedere la spiaggia Guardate le gnocche, guardate le gnocche che camminano, gnocche dappertutto, ingrandiamo sulle gnocche, ecco le gnocche, torniamo indietro, vediamo Stai parlando dei guli? Poi qua vediamo il gnocche coreano, e poi ci sono i gabbiani, e altri sono i pini con un sacco di pappagalli bianchi, una categoria di nuotatori in candeggina Flora ed Emma, comunque è un bate bello, tutto bellissimo, perfetto, una cosa bellissima Canoe, si va dentro il mare Easy Grazie 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 Benvenuti a Dreamworld, ciao Jamie, ciao Laura Questo è il terzo giorno, terzo? No non è il terzo, è tipo il quinto giorno Il quinto giorno che non facciamo altro che andare sui parchi giochi eccetera eccetera E quindi oggi sarà tipo l'ultimo giorno che ci potremo permettere di andare a giro Perciò, ciao! Divertiamoci più Terror 2, esce il fumo, sentite, arriva E' una figata, pazzesca, pazzesca, pazzesca Questo è un grande giro, Lorenzo e Jamie sono qui E' un grande giro, non è successo Ciao Grazie! 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 Grazie!